allora prima di partire faccio un preambolo e vi tiro fuori i commenti della live reaction contro il psg questo è il video lo vedete bene non metto di screen perché devo caricarlo alla svelta allora maurizio lagana 6 5 0 0 commenta e tu saresti un tifoso del milan se affronti le partite senza emozione non le guardare proprio a sto punto la squadra si sostiene a prescindere poi anch'io sono d'accordo che pioli non sia adatto e che ci siano dei palesi problemi ma se tu parti a guardare la partita tra l'altro bella e importante con questo spirito non la guardare risparmaci questa reaction orrenda oltre al fatto che tu non sei obbligato a guardare le mie live reaction oggi hai avuto la risposta perché parole tue una persona guarda la partita con questo spirito senza emozione riccardo sisti 9465 scrive affrontare una partita così in questo modo è veramente triste perché giustamente le altre ti rendono felice nicol nicola di cuia 1 978 ci va ancora più pesante dicendo ma che cazzo di partita hai visto ecco che cazzo di partito visto anzi ecco perché ho visto quella partita in quel modo perché sapevo che oggi sarebbe andata a finire così io mi chiedo a questo punto no se non lo cacciate adesso quando lo volete cacciare cazzo ripilogo ripilogo vero derby verona partita che dovevi stravincere 1 a 0 rischi di prendere pareggio newcastle borussia d'ortmond juventus napoli che sta vi stravincendo è pareggiato udinese genoa una vittoria che vi ho sempre detto deve preoccuparvi quella vittoria no no genoa è girù in porta e girù in porta oggi girù direttamente a casa mia stagia se non andate a prendere addirittura il video contro il della partita contro il napoli dove dico che non vincere una partita come quella è da fessi oggi anzi voi avete commentato ah però devi ricordarti che il napoli l'anno scorso ha vinto il campionato si ha vinto il campionato ha venduto 3 4 giocatori buoni ha cambiato allenatore vabbè allora oggi vi dico titolo del video anche lecce ha vinto il campionato l'anno scorso o è arrivato un finale di champions league o ha vinto la coppa italia o anche lecce ha fatto questo l'anno scorso anche lecce c'è lo scudetto sul petto perché se voi ragionate nei termini di ciò che una squadra ha fatto negli anni precedenti non ne uscite più perché quando dicevo l'anno scorso che dopo cinque gol del col sassuolo pioli andava spedito a casa seduta stante e mi dicevate no ma pioli l'anno scorso ha vinto il campionato l'anno scorso quest'anno è un'altra storia quando vi vi dicevo guarda che il napoli è forte ma non è forte come l'anno scorso se tu a napoli stai vincendo 2 a 0 napoli forte o scarso quello che tu voglia tu devi vincere ma il napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso io ho sentito gente sotto i miei video scrivere ma pioli due anni fa ha vinto lo scudetto quindi se pioli rimane sulla panchia del milan 15 anni tra 15 anni direte 17 anni fa pioli ha vinto lo scudetto e in questi 15 anni non vince un cazzo perché pioli è questo pioli è questo ragazzi io non ho mai detto che lo scudetto di due anni fa è stato regato dall'inter dico sempre che l'inter ha fatto una grossa figura di merda ma se fai 86 punti e arrivi due punti sopra la seconda tu hai vinto il campionato il 100 per cento del merito è tuo però hai fatto quell'impresa sai che per la squadra che non lo puoi fare di nuovo cambia invece no vi siete attaccati a cose inutili avete voluto continuare a farci sanguinare gli occhi con quelle partite di merda che giocate e chi ci si rimette noi 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 ci rimettiamo parliamo della partita parliamo della partita cominciamo dal primo tempo primo tempo ho giocato bene giocato bene cioè primo gol bello secondo gol parla del portere ma bello terzo gol fermato dal palo di lì da quel palo di rendersi al minuto 34 5 il milan è finito ora mi direste il milan è finito contro una squadra top e il milan è finito non ha più sull'altra metà campo no è qui che vi sbagliate perché milan di lì in poi ha fatto forse mezzo tira un porta in milan di lì in poi ha avuto tante 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 occasioni in area il cross a merda e cross verso il portiere e lancio lungo poi lancio lungo persona che pensa di essere messi fa il dribbling e sbatte addosso al difensore scelte totalmente sbagliate tra una di queste crunic che ci ha girù davanti marcato oca fuori a sinistra ovviamente adà a girù davanti marcato una delle tante quello che non sa quello che è stato comprato perché salta l'uomo non lo salta più e lecce prima ha detto e faccio i cambi poi vinco la partita e lecce la partita l'ha vinta lasciate stare che lecce la partita l'ha vinta lasciate stare il gol non gol l'ha vinta anche se non ci fosse stato quel 3 a 2 annullato alla fine il lecce l'ha vinta il lecce non voleva perdere già dal fatto che non ha perso l'ha vinta io mi sono rotto il cazzo di voi che vente a dire è ma lei c'è un campo ostico l'alazzo ci ha perso vedi l'alazzo me ne frega un cazzo il campo ostico il campo deve essere ostico tu sei una squadra che vuole fare risultati vuoi essere una squadra che di virtù al campo ostico ci vai ci vinci di fortuna ma devi vincere e convincere magari vinci 1 a 0 ma vinci 1 a 0 giocando bene non come la partita col genoa non vinci 1 a 0 come laggiù tu vai lì vinci 1 a 0 e stai 90 minuti nell'area di rigore di quella squadra così devi vincere il campo ostico non esiste il campo ostico è san silo quando giochi il derby con l'inter il campo ostico è l'evento stadium è lo stato dell'atalanta l'olimpico un campo ostico non il lecce genova sono campi tosti ma non ostici sono i campi dove tu devi dimostrare chi sei quanto vale quali sono le tue intenzioni lì questi campi sono dei test per quella specie di attitudine lì non per altro l'inter nato a torino campo ostico a postico 3 a 0 ha vinto noi quando andremo a torino quante risate ci tante ci ne faremo di risate ragazzi quelli sono campi dove vieni messo alla prova poi giochi il big match va all'evento stadion perdi va bene giochi il derby perdi ormai siamo abituati va bene ma se dopo il derby giochi con lo spezia il giorno della la settimana dopo potevi vincere se è che tu debbi l'avevi vinto che l'abbia perso di vincere punto questo però voi non lo volete capire voi continuate a dire eh beh però più di ogni fa vinto scudetto per di qui più di là mi dico un segreto prima di chiudere il video l'allenatore nel mondo del calcio non è solo uno che fa la formazione che tra l'altro tra parentesi neanche quella sa fare l'allenatore nel calcio è molto di più allora del calcio intanto sceglie i preparatori per fare sia la preparazione atletica che poi comporta gli fortuni sceglie i preparatori sceglie lo staff sceglie l'allenatore dei portieri sceglie un casino di cose intanto voce in capitolo sul mercato quello prima di tutto l'allenatore è motivatore in inghilterra è chiamato coach per un motivo perché allenatore è il punto di riferimento di una squadra è come il capitano di una nave se il capitano perde la rotta la nave va a puttane e tu non importa se a bordo della nave c'hai quelli che sparano quelli che sanno sparare i canoni migliori se c'hai quelli che sanno hissare le vele in un secondo e mezzo se c'è i migliori combattenti le migliori spade le migliori se il capitano è una pippa la nave affonda e insieme alla nave affonda chi ci sta sopra e sopra ci può stare anche gesù cristo ma affonda la nave e questo a milan sta succedendo sta succedendo il leader il capitano il punto di riferimento quello cui tutto ruota intorno da milan sassuolo 2 a 5 non ci sta capendo più un cazzo e voi non ve ne volete rendere conto detto questo a voi commenti la sezione aperta domani alla reaction e ci facciamo qualche risata ciao a tutti